Ciao a tutti, altra sessione per la Ternana si tratta di Francesco Di Tacchio che è stato ceduto in prestito al Sud Tirol quindi si è concretizzata un'altra operazione in uscita per le fere dopo la cessione e il trasferimento di Partipila al Parma per circa 2 milioni di euro si tratta di Francesco Di Tacchio che sarà ceduto solamente in prestito alla Sud Tirol per cui alla fine della prossima stagione sarà di nuovo un giocatore delle fere perché effettivamente rimane in proprietà della Ternana per cui periodo di cessioni da parte delle fere ma il Presidente Stefano Bandecchi ha tranquillizzato un po' tutti dicendo che i soldi delle cessioni saranno incassati dalla nuova società e quella guidata da Farmacuida poi vedremo quali saranno a questo punto i soci e la nuova società delle fere dovrebbe insediarsi per usare questo termine il prima possibile molto probabilmente anche prima del 15 luglio perché il closing è previsto a breve per cui tra qualche giorno probabilmente avremo questa nuova società nel frattempo saluta la Vernana anche il Metal Coach Passale che si è accasato all'Udinese per cui gli facciamo ovviamente in bocca al lupo con il suo futuro professionale per il resto per quanto riguarda le fere non ci resta altro che aspettare che si insedi la nuova società e speriamo e vedremo quali saranno le operazioni in entrata oltre quelle che in uscita ricordandoci però che Di Tacchio è un nuovo giocatore della Soltiroli grazie a tutti